Bene, ora vediamo una serie di immagini e cerchiamo di scrivere il loro nome. La prima immagine che vediamo è l'immagine di una scala. Come si scrive scala? S-C-A-L-A, scala. Questo è un pesce. Come si scrive pesce? P-E-S-C-E, pesce. Invece questo bambino sta facendo la pesca, sta pescando. Quindi la pesca. P-E-S-C-A, pesca. Mmm, questi sono biscotti. B-I-S-C-O-T-T-I, biscotti. Queste due persone stanno sciando, quindi stanno praticando lo sci. S-C-I-S-C-I. Questo è uno scolapasta. S-C-O-L-A-P-A-S-T-A. Scolapasta. Queste sono le strisce pedonali, quindi strisce. S-T-R-I-S-C-E, strisce. Questo è uno scatolone. S-C-A-T-I-O-L-O-N-E, scatolone. Questa è schiuma. S-C-H-I-U-M-A, schiuma. Questa è una grandissima piscina. P-I-S-C-I-N-A, piscina. Questo è un ciuccio. C-I-U-C-C-I-O, ciuccio. Questo è un casco. C-A-S-C-I-O, casco. Questo è un accendino. A-C-C-E-N-D-I-N-O, accendino. Questo è un posacenere. P-O-S-A-C-I-E-N-E-R-E, posacenere. Questi sono due scheletri, quindi la parola scheletro. S-C-H-E-L-E-T-R-O, scheletro. Questa è una freccia. F-E-R-E-C-C-I-A, freccia. Queste sono tante maschere, quindi la parola è maschera. M-A-S-C-H-E-R-A, maschera. Questo è un sacco di patate, quindi sacco. S-A-C-C-O. Questa è una goccia d'acqua, goccia. G-O-C-C-I-A, goccia. Questa è una scopa. S-C-O-P-A. Questa è una forchetta. F-O-R-C-H-E-T-T-A. Questo è un semaforo. S-E-M-A-F-O-R-O, semaforo. Queste sono le chiavi. C-H-I-A-V-I, chiavi. Queste sono le asciugamani. A-S-C-I-U-G-A-M-A-N-I, asciugamani. Questo è uno stendino. S-T-E-N-D-I-N-O. Questa è una bellissima chitarra. C-H-I-T-A-R-R-A. Chitarra. Questa è una stazione. S-T-A-Z-I-O-N-E. Stazione. Questa è una orchestra. O-R-C-H-E-S-T-R-A. Questa è una orchestra.